Sembra fichissimo Invincible Allora ragazzi Chiedo scusa per questo Mega stacchetto iniziale Vi ho visto un po' di film E direi che Stasera Concludiamo Near Andiamo a rota Ah Sono entrato prima Per vedere se avevo preso il fiore giusto Se il fiore giusto mi era uscito Sono un coglione L'ho fatto troppo tardi e non già semi Ed ero dimenticato E quindi vabbè Poi me lo faccio io il fiore per i cazzi miei Non me lo metto a fare adesso Non c'ho voglia Ma rimando perché sto guardando The Office Vabbè The Office Perché parlavo di animazione per questo Ma di roba bella in generale Ce ne sarebbe un bordello Andiamo da Louise Veniamo a Louise Per la quarta volta Let's go Sposta di cane Io ho tanta roba dovrei vedere Tanta roba Madonna Io sono ignorantissimo Se ne videogiochi bene o male Anche se non li ho giocati Comunque li conosco Ma comunque Io ne ho giocati tanto Ma porca puttana Di film Di serie tv Di animazione stessa Ho visto un cazzo Io Un cazzo no però Ho visto molto molto poco Quindi vorrei rimediare col tempo Tipo The Office Che stai avendo tu Io so che è bello Perché me ne hanno parlato tanto Damos piace un casino Ad esempio The Office Io non l'ho visto The Office Ma so che è bellissimo Boris Io non l'ho visto Boris Mi so visto La sitcom No la sitcom La telenovela di Maccio Capatonda Forse No non ho visto Tutto il Maccio Capatonda Perché mi mancano I film di Maccio Capatonda Porca puttana Tanta roba me manca Costino non può Avere avuto il ciclo Madonna Sarebbe morta Una bambina di questa dimensione Parliamo di anime Hai mai visto Welcome to the NHK Sì L'ho visto pure due volte Welcome to the NHK Mi pare due volte Com'è? Allora Ha un sacco di gente Piace a bomba Piace proprio un casino A me è piaciuto Con qualche alto e basso E' piaciuto Però Delle criticità Secondo me L'anime non è Capolavoro come dicono in molti Però è un bell'anime Però consiglio comunque Vabbè Ti fai un'idea A prescindere Ti dico di guardare E ti farti la tua idea Chiunque comunque ti dirà Che Welcome to the NHK E' bellissimo Io sono un po' più restio Però Non è brutto È un bell'anime Altri dialoghi ragazzi Tanto tutti uguali Che qualcosa altro se vuoi Tanto questo ma fa sempre le stesse cose Quindi possiamo fare un po' di dialoghi casuali Di roba Non seguo molti anime O mai ma ne ho seguite C'è stato un periodo Che ero un drogato di anime E poierei un anime Prima non mi parlo mai Ma che mi piace un fottio È Steins Gate Cazzo Steins Ma Steins Gate Ma scusate Ma Steins Gate È un maestro pezzo Steins Gate Allora ho visto anche Lo Zero Lo Zero Non mi è dispiaciuto Ha qualche problemino Però non mi è dispiaciuto Altri ha fatto cacare a spruzzo Mentre il primo Steins Gate È bellissimo Ho visto pure il film E lo speciale Ho visto e mi sono piaciuti pure quelli E' bellissimo È bellissimo Steins Gate No no assolutamente Steins Gate è favoloso Le cose secondarie Non so se le devo leggere per forza Ho sempre lette Ho visto e l'ho apprezzato davvero tanto È top 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 Luis mi dispiace se non mi importa di rileggere la stessa storia quattro volte Mi dispiace Luis Taglio Che se no non sognavo stasera No ma Ora non mi piace quanto Hunter Hunter 2001 2011 Hunter Hunter comunque è un'altra cosa Cioè Perché adesso ho Shonen tutte e due Ma Il target Sono completamente diversi Uno è Fantascienza Slice of Life L'altro è Battle Shonen Quei Power Up Quei potenziamenti Quei allenamenti Quei combattimenti Sono due cose un bel diverso Uh Vice Sto scaricando Sì 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 assolutamente Hunter Hunter è uno dei miei anime preferiti Di sempre Nella 2011 Ho visto anche quello vecchio L'unica cosa Che mi è piaciuta di meno Lo trovo un po' strano Però è così Che mi è piaciuta di meno Di Hunter Hunter È Grid Island La saga di Grid Island Non me l'aspettavo ma Non mi è piaciuta granché Non è brutto ma non mi è piaciuta granché Il resto Il resto È un divenire Björk Sheen Shire Come si chiama Koso City Cristo Santo Scusa ma si sentiva il doppiaggio di lei Non erano solo sbiascichi che non si capivano L'hanno messo adesso Scusa ma non mi ricordo Io non mi ricordo che era doppiata Ho scoperto che a molti Quello di Unici Non è piaciuto Nel senso che preferiscono quello vecchio Nel 99 Madonna Madonna No il mio preferito È quello delle formi chimere Ma mi sono piaciuti tutti L'unico che non mi è piaciuto O meglio Mi è piaciuto poco È quello di Grid Island Quello effettivamente un po' Non mi è garbato Il resto Oddio Allora Allora È vero È vero che quello del 99 Ha più atmosfera Quello del 2011 È meno dark Possiamo dire E Antian Hunter è sempre stato Piuttosto dark In generale Come tono Nonostante siamo un battescione Tuttavia Secondo me non è un difetto Che sia comunque più Luminoso Da virgolette Anzi il nuovo È più È più fedele Il nuovo È fatto di animazioni Di Dio Di segni di Dio Regia di Dio Colonna sonora di Dio Anche originale Per la colonna sonora Ma anche originale È molto bello Non ti sto a dir di no Proprio a rischio 2011 Vabbè Il 2010 C'era i formichi merda Io amo la saga Dio Amo la saga delle formichi merda Ho chiesto di 99 Fa sudare freddo Ogni volta che conferra A schermo Allora È vero che Isoca a volte Può sembrare Un po' un meme Però A prescindere pure Isoca Cioè più che altro Sai che c'è È che Isoca nel 2011 Purtroppo Per forza di cose Siccome inizialmente Per un bel po' di tempo Lo davano su un emittente Che non doveva essere Troppo Che era più per ragazzi Era un po' più Ora Censurato no Però era un po' più edulcorato Di poco Però lo era E questo si poteva notare Ad esempio Isoca Nel All'inizio Quando devono fare l'esame All'inizio Ammazza uno Ma nel 2011 Invece di ammazzare Cioè lo ammazza Ma Diventa tipo Sfa falli E questa era una conseguenza Di quella scena Oppure che ne so Chi lo ha Quando combatte contro il carcerato Fa paura di Oprisa Eh fa paura sì Allora Chi lo ha contro Dentro il carcerato Nel 2011 Gli stacca il cuore Ma lo mette dentro Un sacchetto In originale Anche nell'anime del 99 C'ha il cuore in mano E lo distrugge E' molto più cruento Dove hanno edulcorato Un pochino Alcune cose Con il 2011 All'inizio purtroppo All'inizio Noio E' un pochino E' un pochino E' un pochino E' un pochino Giuro, non mi ricordo affatto sta roba. Ah, non c'era. Ma c'era nell'arancì. Ok, allora l'ho notato nell'arancì. Comunque è Hunter x Hunter, quindi io approvo. Ah, è bellissimo. Hunter x Hunter, anche quello vecchio è bello. Ma anche quello vecchio è più cruento, è più fedele da quel punto di vista. Ma poi lo diventa anche quello del 2011. La differenza è che quello del 2011, ripeto, purtroppo non potevano in quell'emittente. Poi si è spostato in un altro emittente, hanno fatto le formi chimere e sai com'è andata. Domanda complicata, dimmi. Voglio una risposta. Lo capisci però che è una domanda difficile. È molto difficile come domanda. Vabbè, è il Sing Ultimate. È il Sing Ultimate. L'ho ricordato molte volte e non mi ha mai stancato. Ex in battle. Io adoro Eds. Guarda che io adoro Eds. Guarda che io adoro. C'è pure il mania. Io dopo che mi sovvisto il Sing Ultimate, ho tentato di recuperarlo... Ho due Blu-ray inglesi di El Sing Ultimate. Mi manca l'ultima parte che ancora non ho potuto recuperare. Al tempo perché non è ancora disponibile, ora non posso. E mi so preso pure il manga. Non è la mia opera preferita, per carità. Però è... Lo adoro Eds. Gli altri. Spera ovunai. Non è la mia opera. Non è la mia opera. Spera. 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 la persona team for store l'hai vista? si l'ho visto anche in italiano perchè l'hanno anche doppiato in italiano ma che cavolavoro che cavolavoro che cavolavoro incredibile pure quello è un cavolavoro per carità è ovvio il sing ultimate ha un altro tipo di target un altro tipo di mentalità su come è fondato cioè punta ai personaggi super carismatici punta alle frasi ad effetto punta alla teatralità punta allo splatter e ai combattimenti sanguinolissimi ovviamente non lo segui per avere una storia fatta da dio che non canna mai o che sia perfetta o che sia sempre incredibile cioè non è quello il suo scopo ha comunque una storia che è coerente con se stessa fino alla fine il che è tanto che è un'opera certe opere purtroppo si sputtano ovviamente non lo cerchi per la profondità anche se c'è dei momenti profondi verso la fine Helsing che mi sono piaciuti ma per tutto il resto ed è incredibile io vedi proprio un cazzo a Helsing l'unica cosa che gli puoi dire è che non ti piace perché non è più genere è ovviamente ma è fatto da dio facendo una ancora più stronza opera giapponese che vuol dire? opera? in che senso opera? per qualsiasi cosa? film? libri? anime? manga? like I was hey light novel tutto? conta tutto? you're that guy yellow ok opera opera direi Hunter x Hunter molto robe in mente allora a dir la verità sono un po' combattuto però essere combattuto oserei dire Hunter x Hunter ma è difficilissimo quello da dire è difficile perché fin quando dici anime dici vabbè anime è più specifico fare di animazione di stile e tutto il resto opera proprio in toto penso Hunter x Hunter però l'anime il manga non l'ho letto e comunque è un po' altarenato l'anime l'ho reso incredibile allora Rocky Joe lo adoro Rocky Joe lo adoro assolutamente però parliamo di preferenza non parliamo di migliore che sicuramente l'opera migliore che ho lì in mezzo e che ho letto è Rocky Joe o che conosco in generale migliore in maniera più o meno fattuale e comunque è incredibile se parliamo di preferenza per dire di preferenza io ti vorrei dire pure che Soul Eater mi piace un bordello però è una preferenza non ti venga a dire però che l'opera fatta meglio o o l'opera o quella generale migliore assolutamente no probabilmente anche se dovessi fare che cazzo ne so una top dei manga che ho letto non la potrei neanche fare perché non è che ne ho letti tanti però se dovessi mai farla probabilmente non ci metterei neanche Soul Eater per quanto io lo amo oddio forse lo potrei mettere ma tipo decimo con tipo una specie di onorificenza ma questo perché mi piace un bordello a me Soul Eater non è brutto Soul Eater però non è comunque chissà cosa però vedi è dura perché ho letto anche altre opere tipo per dire se parliamo di opera opera ad esempio io ho apprezzato cioè un'altra opera escludendo manga e anime lo sai quel manga è più importante di roggeo con influenza e innovazioni che ha portato sempre manga parliamo Devilman lo stavo per dire o Devilman o me ne sarei uscito con tipo Astro Boy roba pesante proprio importante assolutamente Devilman effettivamente sì Devilman ha influenzato un bordello di cose ma così come aspetta ma scorda che c'è sta vengono in mente altre cose adesso cioè ci sono quelle opere che vabbè ci sono strane che Devilman è incredibile però per dire sono quelle opere che sono talmente influenzabili e influenzate che hanno cambiato radicalmente di Devilman ci sono citazioni in ogni dove Evangelion pure stesso è un'opera incredibile Attack on Titan ci sta assolutamente assolutamente proprio per dire ti avrei detto o Devilman o Astro Boy o come cazzo si chiama vabbè Rocky Joe ovviamente hanno comunque avuto ruoli diversi o comunque simili ma altrettanto importanti perché ad esempio io non ti sto a dire che Devilman cioè secondo me poi vabbè non ho studiato storia dei manga e dei anime ma non ti sto a dire che Devilman è più importante di influenza e di importanza giapponese quanto Rocky Joe o viceversa non te lo so a dire però è un'opera che altrettanto ha influenzato in maniera diversa in ambiti diversi e sono comunque opere diverse pure Berserk Berserk ha influenzato tantissimo l'immaginario fantasy giapponese che praticamente non era giapponese di per sé era molto occidentale Berserk ma sì ci sta anche più o meno come avviene la cosa poi trovi delle analogie cioè sono quelle opere che anche se non ti piacciono anche se per una persona non piacciono non puoi assolutamente non dire che sono estremamente importanti e che sono state estremamente importanti che senza di loro avremmo avuto magari un attacco on Titan non quello che è ma l'avremmo avuto completamente diversa avremmo avuto un'altra cosa oppure un Evangelion ah a proposito a proposito ho visto gli Ainub e ho visto che hanno visto Devilman Crybaby però parlano sempre Jibberish vero? Sì esatto però ho visto il video no ho visto Caverna mi sembra che ha reagito al video degli Ainub che parlavano di Devilman Crybaby mi pare che era Caverna sì era Caverna e ci stavano gli Ainub che avevano detto che oh cazzo il finale di Devilman Crybaby mi ricorda un sacco cioè ha ripreso un sacco da Evangelion e tu resti così non è possibile ma informati un attimo di quello che parli è bellissimo oddio santo ma sì l'ho visti però sotto la lente di uno che li perculava da solo mi sarei rotto guardare il video direttamente mi sarei rotto i coglioni ma porca vuoi fare il video? vuoi dire la tua opinione può anche farti farti schifo di Devilman Crybaby però cazzo capisci un attimo di cosa stai parlando ma caverna poi spacca tutto ma caverna poi spacca tutto ora dico che ultimamente negli ultimi due o tre giorni siccome devo aspettare devo editare molti video ho quasi finito fortunatamente per il canale gaming mi sono messo a vedere un po' di video di caverna barra Dario che reagiscono a cose che comunque mi divertono anche se ad esempio caverna mi sta sul cazzo comunque il suo modo di cazzeggiare mi diverte ho visto che caverna aveva fatto una live cioè era entrato in live da Mangaka Mangaka se n'era dovuta andare al bagno e ci stava un in chat che gli ha scritto che ne pensi di Your Name è un po' un coglione caverna che aveva preso il cofaretto di Your Name quello proprio limitato aveva tolto la pellicola proprio la pellicola unica dentro alla Limited e l'ha bruciata e poi quando Mangaka l'ha vista indifferita quando è tornato era così oddio santo che risate che mi sono fatta porca puttana è stato bellissimo bello parlare di bello ridere mentre sto combattendo contro sta fase drammatica del gioco però l'ho già fatta vedo che che piscio di risalto che piscio di risalto per spaccato il burè di attacco on titan vabbè allora aspetta quando poi si mette a fare per sciò che apprende che ne so un manga e lo spezza in live ok ognuno fa il cazzo che vuole però cioè si vede che lo fa proprio per sciò e quindi che cazzo gli frega però quando era in live di un altro è solamente un utente ti ho fatto ti ha chiesto una cosa se ti piace Your Name e lì con tutta risposta tranquillo senza dire una parola in live di un altro va a prendere il cofanetto e gli brucia Your Name davanti mi ha fatto crepare mi ha fatto davvero pisciare addosso ovviamente esplodere un volume di Berserk ha staccato tanti di quei manga il cazzo era Death Note Bakuman ma che poi sai che c'è è che sai che c'è è che Caverna è napoletano a Napoli sono a Napoli comunque napoletano campagna hanno alcuni hanno molto questa goliardicità questa come si dice teatralità e quindi fanno ste cose assurde Caverna proprio è l'emblema di ciò e quindi anche se mi sta sul cazzo Caverna perché le spara perché dice cazzate eccetera eccetera comunque so che ne sa e comunque mi fa ridere quando fa ste cazzate in qualcuno non lo so che Caverna però queste reaction le guardo con piacere perché mi fa pisciare addosso le risai the wolves appear to be targeting the king he seeks the king of facade with such dog and unwavering defiance why do these beasts hold so much rage mi è sempre piaciuto molto che attaccassero il re che puntassero al re perché sanno dove colpire più forte grazie al alla scelta a rock che poi non lo so se effettivamente se io non combatto se il re può morire se colpisce troppi colpi se si subisce troppi colpi sai non ho mai fatto chissate chissate con nessuno di volta e torno ok è proprio bello il fatto che in una pezzi di averno è un altro discorso beh sì sì di tanto stiamo qua salterò un bordello di filmati è tutta rush della parte è vero che bravo è vero che è vero che non si era Bellissima, questa frase è bellissima. Direi che potremmo saltare anche tutti i filmati fino alla fine, a parte l'ultimo del finale D. Io vi vero qualcosa di piaciuto che dovremmo pensare, della mia zona. C'è la parte dopo le popola che fa... no, no, c'è la parte... sì, sì, questa parte. Ci stiamo avvicinando al finale D. Come ho detto, la parte in cui si fa il finale D è tutto questo, uguale al C. L'unica cosa... bisogna fare l'altra scelta. Quindi invece di uccidere Kaine, qua fino, come dice Tyran, ti sacrifici. So poi cosa devo fare dopo il finale D. Perché poi c'è la... Ovviamente non vi dico cosa succede nel finale D. Le conseguenze, quello che succede nel filmato, eccetera eccetera. Lo facciamo perché poi voi dite, e poi che cazzo succede? Devi rigiocare di nuovo la terza parte per il finale E? Me lo sono detto un attimino per capire come funzionava. Non so cosa succede, so solo come ci si arriva. È particolare. Non c'era nell'originale il finale E. Oh, c'era. Mario, andiamo al castello. Mi fa morire, questo è messa proprio bene. Ehi, Iona. Considerando come stavi crescendo... Perchè potresti essere messa molto bene. Più grave, più grave. Però, vedete, queste parti qua, ad esempio, di Devole e Popola che parlano, oppure dal finale B, che ci stanno le parti in più di Kaine, che parla con Emil, o il fatto della lettera... Vabbè, il fatto della lettera era della parte di Luis, che non c'era neanche nell'originale del cut content. Cioè, mi piace che l'abbiano messa. Anche se magari sono superfluo alcune, perché effettivamente alcune secondo me sono superfluo. Però, a me non hanno aggiunto cose in più e hanno messo più carne al fuoco. Per me è solo una cosa positiva. Vedremo com'è il finale E, cosa si sono inventati con il finale E. Oddio santo. Ok, ripeto, finora, a parte ovviamente le aggiunte, per me è stato praticamente un replay, un rigiocare, un gioco che avevo già giocato due volte almeno, nell'originale. Ovviamente è migliorato. Grazie a cazzo, è migliorato il gioco, nel gameplay, in qualche cosittina. Sono contento di ciò, graficamente ovviamente. Poi era comunque un'esperienza diversa con il fratello. Devo ammettere che inizialmente ero titubante, forse l'ho già detto. Inizialmente ero titubante di utilizzare il fratello. Perché mi piaceva più l'idea di essere un padre che doveva salvare la figlia, come nell'originale Gestalt. Originale era pure Repicant sulla carattola giapponese. Però devo ammettere che ha più senso, narrativamente, il fratello. Anche per un punto di vista di crescita personale e di come si approccia la storia. Nel Gestalt, il padre, era tipo un po' troppo boomer. Era un po' troppo... Non dico stucchevole, però certe reazioni ti rispetti da un giovane. Non da una persona di 40-50 anni. Quindi devo ammettere che ha molto più senso il Replicant. Beh, secondo me vanno bene tutte e due. Però il Replicant bisogna mettere più senso. Si vede che il Replicant è la forma originale. Non mi avete visto quando io ho fatto la parte dei ricordi. del diario della mamma di Iona e di Mr. Nero. C'è stata la parte con Nier grande, che praticamente a questo punto è considerabile il padre di Iona. Cioè, almeno credo che è canonicamente sentito come il padre. Mi è ben piaciuto un sacco, perché altro è stato un colpo al cuore. Perché comunque io sono legato a Gestalt. E vedere che hanno mantenuto pure... Anche se dice una frase o due frasi al massimo. Anche se dice quel poco. Il fatto che hanno mantenuto lo stesso doppiatore. Già solo a guardarlo è ok. Ma la cosa che mi ha subito è che hanno mantenuto lo stesso doppiatore originale. Anche se è solo per fargli fare quelle due frasi. Sta cosa li ha mandati in estesi mentalmente. È stata una bella cosa. E sono contento comunque che la stramaggioranza dei personaggi dei doppiatori originali inglesi sia tornata qui. La doppiace inglese è sempre incredibile. Era incredibile in Gestalt. Era incredibile in Automata. Era incredibile in Drakengard. 3. L'ho giocato. Ed è incredibile qui. E' ben ripreso da Gestalt per la maggior parte. Sono davvero contento che abbiano fatto questo lavoro come si deve. Alla fine del gioco è una specie di secondo me non è né una remastered né un remake. È tipo una versione migliorata. Lo so che sembra stupido. Mi sembra non avere senso. Però effettivamente è come se fosse una versione riveduta e corretta migliorata dell'originale. Quindi gameplay migliorato. grafica migliorata aggiunta di varie cose finale e vari elementi in più tipo Louise le cose di Devole e Popola i dialoghi come Mill e Kain e la parte B e sono molto contento con l'abbiamo fatto. Poi io decisamente per quanto Automata mi sia piaciuto preferisco per una serie di ragioni anche personali questo Nier prefisco i personaggi di molto prefisco la trama e le boss fight in generale le trovo meglio fatte qui che su Automata ma questo non per dire che Automata è una brutta trama o oddio forse i passaggi sono un po' piaci secondo me ma che io reputo cioè preferisco decisamente questi qua i reputo superiori lo pensavo al tempo con Gestalt e lo penso adesso con questo a maggior ragione lo penso con questo perché è sempre il protagonista come fa più senso e dov'è guardate che non voglio incasinarmi ok perfetto beh allora sembra che la strada è aperta il ministra stesso ha più senso il doppiatore è bravo il doppiatore di Gioia era bravo quello del padre che si vede per mezzo seconda per appunto quell'uno o due fasi però è bravo anche questo qua mi piace un bordello il design del protagonista da grande da giovane no dobbiamo mettere che non mi piace da giovane da grande mi piace vabbè il tortatore provo pure da giovane però preferisco decisamente da grande il design è davvero bello è un design davvero buono è proprio un figlio è anche la caratterizzazione ripeto per quanto voglio essere più il padre del giovane di base l'idea decisamente è meglio ed è un personaggio migliore Nash è un personaggio migliore un personaggio meglio caratterizzato più come dire non è il termine più coerenza diciamo diciamo di sicuro di sicuro persona del personaggio il fatto ecco il fatto stupido che nell'originale nell'originale cioè nel gestalt nella prima parte potevo utilizzare le armi a una mano nella seconda parte anche le lance le armi a due mani il personaggio era già giovane era già bello muscoloso non aveva senso questo cambiamento invece essendo più grande ha senso adesso utilizzare le armi più grosse ma sono contento di essermi sbagliato sul protagonista cioè alla fine ha solo un sentimento più che altro la solita cosa c'è ony chan che palle però è molto meglio essere giovane neer che vecchio neer oddio vecchietto forse un parolone però era comunque più di mezza età comunque mezza età o 40 50 anni almeno ancora 50 anni gli avrei dato non è proprio come la prima cosa non è proprio come la prima cosa che cambia troppatemi nei negoci di corsa lo userò grazie a te ne ho buttato giù dammit i won't stop coming i'll open the next door cover me so how i do love good fight hm, oh, right protect the hussy, yes? good plan, let's go good plan, let's go protect kainé for us stupid door, come on come on Apposte. Bullshit bastard! Open the fuck up already! Got it. Kainé, guarda! Fuck him! This one's the most auto-scrolling and other. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Ah, donna santa! E' che danno me lo fanno sti strozzi! We need to help Kainé! Kainé, fammi aiuto a Kainé! Mo' diventa il porco, qua. No, 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 no! E poi lo sanno loro! Perché hanno fatto il gioco che shotteresse automaticamente sti qua in mezzo secondo. E quindi danno una difesa talmente alta... che almeno dura un po' per combattimento. Aspetta un secondo. Aspetta un secondo. Aspetta un secondo. Il tuo cuore è... ...different. Non è l'astrazione. E non è l' tristeza. Cosa sta a fare qui, Sunshine? Come devo sapere? Kainé, sei bene? Allora... Una fase... Eh, è sempre lui lo che ce la fa shottare subito. Ma questo perchè lui è resuscita 3.000 addi di volta. Ma questo ora... ...e'va perdita! Si, questo che... ...e'va perdita. ... ... ... ... ... ... Tutti vittime a queste distraczioni! Vai, dobbiamo continuare a andare! Andiamo! Qui, andiamo! Bisogna aspettare un pochettino. Allora, c'è da rincorso! Dove cavolo va? Dove cavolo va? Up here! Come possiamo tracere con questo... ...ma cosa? No! No! ... per ora! ... ... Ma si, ha... ... Ah, cazzo, ho detto che non mi fai l'angolo. Grazie mille per la curetta. C'è un super volante. Oh, tu l'ai fissato ora! Probabilmente tu non avessi ucciso i amici. Guarda qua, così piena di scuola e hate. È proprio come te, Sunshine. Come sei un po' di più. Hate è solo un altro crush per te. Hey, ora! Tu sei in pain, sei soli, nessuno ti piace. Quindi ti cercano di scendere sotto la violenza e la hate. Non ho la mia madre a tutto. È tutto bene. È tutto bene. Guarda, io sono la stessa. Ma solo pensiamo che questo non va aiutare. È troppo tardi per noi ora. È troppo tardi per tutto. È troppo tardi per noi. È troppo tardi per noi. È per questo che... Che tanto bisogna aspettare. Ah! 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 Oh! Perugato, Si, Si, Use, Kion Ira, Kock, Kuch Sì, sì, sì Why are you here? Saruri, Sita To Keizam tostero, da no? You are correct Ira, Ira Sate, Sansei, Dari Fruari, Uwa lito, Tres, conca, Shittin Vaic Aura! Peruato! Dov'è chi è venuto? Appia... Tosaji Chisatatoma... Tonerutan... Kaizamuchi... Ok, andiamo! Ok, parte finale... No, parte finale no, prima c'è te vola il popolo Il malagolato a caso mi servono anche... Questa che hai? Non ho mai capito, aspetta... Pazione di guarigione... Ah, ripistina tutti? Mai usato... Mai avuto qualche bisogno... A usato... Sì We let it become f***ed to you then. All of you snitch cret we suck we are. You and us, we're the same. Tools in the hands of a Master. No, I'm nothing like you! Please, don't do this, Popola! You and Devola were like parents to me! Those two have watched the world wither for time immemorial. Cool. In such a place it's difficult to imagine. I don't want to do this! I don't want a fighter! Stop bitching and start fighting! It's the only way! A post. We need to move the mill. Let's go! ... ... ... ... Questi li hanno mantenuti all'originale, perché erano più lenti all'originale, a me Meno sul PS5 è un po' più freddo, ah, ah, vedi, scusa pure il trofeo che non avevo preso perché ho la cosa dei mille, adesso li devo combattere, spazio un uomo Come buttate a terra? Oh mio Dio, come siete resistenti? Oddio Ma che cazzo Mi buttavo un tiro stantemente a terra Ora vivi Ok Questo finisce qui Stratto forte Non ce l'ho fatto stavolta, non ce l'ho fatta prima, non ce l'ho fatta stavolta Ho sperato di stare contro il Shadowlord Non parli in tale modo, freddo Non sono nulla come te Aaaaaaah Sei attivato Lo so Hey, Sunshine Non c'è nessuno di questo, ma penso che il tuo cuore è diventato L'acqua è morta 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 Mmmmm Il che sei Voglio L'acqua è morta Casi Il vu Alliance Rondo Shodown No, 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 no 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 Oh 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 Pega um TANK A SUBOLES SORGE AN Å Å Å Vice, what's wrong? You're freaking me out here, Vice. What are you doing? Do it! Strike the killing blow! Al post. Vice, what are you doing? I have something to defend. I have a reason to live. I have a reason to defend. 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 I'm gonna swallow you up, Sunshine. Kainé? Listen to me. The shade is... Soon. I can't... Kainé. They lose their minds. Both of our memories will be completely overridden. Kainé! 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 I'm gonna kill us. And Mr. Tom, Purnished us. Kainé! Kainé! Cainé! Ho dovuto fare qualcosa. Non lo so! Abbiamo venuto così vicino perchè tu eravamo con noi, Kane. Sono chi mi sono oggi perchè tu. Non mi farò perdere su te. Non mi farò abbandonare qualcuno che mi amico. Ti farò salvare! Lo so! Chi ha detto? Non importa, quindi... Ho detto... Che c'è Stella? È la mia. Occhè! C'è un modo per salvare la vita di Kane, ok? Ma devi fare una decisione difficile. Faccio tutto ciò che bisogna. Quando il tempo arriva, mi farò prendere Kane. E così, come faccio, hai bisogno di stare in il cuore. Non, non posso! Ok, non mi credo. Stai a guardare con il cuore di Kane. Stai a guardare con il cuore di Kane. E guarda che tu eri morti un terribile giorno. Dammit! Ma lo picchia, eh! Ho fatto pure lei, il povero. Cosa dovrei fare? Cosa dovrei fare? Ci di Kane libera questo supplizio, quello che abbiamo fatto nel finale C. Invece ne faremo sacrificare la tua esistenza per rendere Kane di nuovo umano. Il mio tempo è già lo apresento… Você già esigerавerti da questo mondo. Vousiche herpe, le mieningite, tutti in vostra vita lo grascaranno. Applausi lo stesso tempo, di ogni signo che limparai che esiste sarà erasato ma in exchange Kaine sarà tornata alla sua vita mortale ora il gioco ti avvisa più volte un attimo ho caricato il pen grazie a cielo scusate allora il gioco ti avvisa più volte se sei sicuro di fare questa scelta se sei sicuro di questa opzione tutti i tuoi dati salvati verranno eliminati tutti neanche uno se ne salva tutti quelli che ho utilizzato per salvare vuoi davvero continuare? sì anche se cambi idea ora potrai tornare a questa selezione completando nuovamente il gioco vuoi davvero continuare? sì tutti i dati verranno eliminati potrai selezionare questa opzione una sola volta davvero continuare? è la tua ultima possibilità di cambiare idea vuoi davvero continuare? sì inserisci il nome del giocatore da cancellare da cancellare hai inserito il nome corretto tutti i file di salvataggio verranno eliminati la prima volta che feci questo nell'originale mi fu colpì molto perché era un effetto bellissimo era una cosa incredibile ti fa proprio vedere che perdi tutto guarda che era tutto nuovo non l'avevo letto neanche una corona tutto via per questo dicevo meglio fare prima il CERPO e il DISA non so cazzo questo finale però è davvero tanto bello come gli altri, carità sei tutto bene? Yonah? era tu, la persona che mi aiutò, diciamo era, non è? thank you so much i'm glad you're okay C'è niente comunque la corona sonora in questo E poi parte questa, non ti va C'è niente? Crying? Uh... Yeah... I guess I am. It's like... I just found something special. Something... Very special. L'ultima parola a dire ogni volta. La versione della canzone questa volta è solo strumentale in questa maniera. Lei non riesce a ricordare perché siamo letteralmente spariti dall'esistenza. E Iona stessa non si ricorda di suo fratello. Non esistiamo più e basta. La versione della canzone è solo strumentale in questa maniera. Sì, veramente... Nonostante l'abbia già giocato sto gioco... Anche se adesso ha un effetto diverso. Quindi sapessi già comunque quello che stava succedendo. Ti colpisce come un trattore sempre e comunque. E ti fa stare in una maniera... Madonna... E abbiamo concluso il gioco anche col finale di... Perdendo tutto. Questo era l'effetto sorpresa. Anche se comunque il gioco ben quattro volte ti dice... Sei sicuro? Sei sicuro? Sei davvero sicuro? Ma... Ma stai scherzando? Non puoi neanche... Non puoi neanche sbagliare. Non puoi neanche dire... Vabbè ho perso i salvataggi e giocano Scrums. Sapevi cosa stai facendo. La mia volta che scopri questa cosa davvero... Non l'ho fatto. Si poteva fare... Semplicemente che... Grazie al cloud adesso... Potevo tenere i salvataggi in cloud. Non l'ho fatto. Anche perché mi è stato detto... No vabbè... Ora vedremo. Vedremo anche come. Mi è stato detto che comunque... Non dovrebbe essere un problema. Se poi voglio fare completismo o altro. Vediamo. Sparita la motivetta. Ci sono solo... I fattori di coda. Che lasceremo scorrere per la quarta volta. D'altro una cosa che succedeva nell'originale... Penso che succeda pure qui. Una volta che hai fatto questo finale... Cambia... La schermata. La schermata di... La schermata del menu iniziale. Mi aveva colpito molto anche quella cosa. Mi aveva colpito molto anche quella cosa. di questo. Ero. 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 Se non ho inserito qualcosa di nuovo. Siccome adesso c'è anche il finale. Che non c'era nell'originale. E non so adesso cosa succede. Se il gioco mi fa capire una determinata cosa o me... Che ovviamente tu dici. Hai perso tutti i salvataggi. E mo che fai? E mo come fai a fare il prossimo finale se... Ma devi fare pure il finale di. Se no non ci puoi arrivare al... Tu non poteva parare. Cosa di molto speciale. Grazie per aver giocato. Per usare il cloud ora. Eccola la. La nuova schermata. Che è solo una luna tier. Nell'acqua. Ora. Il continua non l'abbiamo. Cambiamo verso tutto. E abbiamo verso tutto. Tuttavia. Da quello che ho letto. Ho letto solo questa cosa. Non so per sapere cosa dovevo fare. Nuova partita. Siamo normali. Inserisci il tuo nome. Questa è una cosa che ho letto automaticamente. Leggendo quella cosa. Non mi sono letto altro. Non so cosa succede o come succede. Lo solo bisogna arrivare fino a un certo punto. Se io metto Reicom. Che era quello originale. Questo nome non può essere utilizzato. Perché? Perché siamo scomparsi. Immagino sia. Per esempio il discorso che. Siamo scomparsi all'esistenza. Non esiste. Quindi io utilizzerò. Un altro nome. E a questo punto sto pensando di mettere semplicemente tipo Ray. Però. Sarebbe comunque un diminutivo. Non avrebbe senso. Quindi utilizzerò il secondo nickname. Che ho utilizzato online. Che ogni tanto ho utilizzato. Perché me lo sono sempre tenuto come backup. Che era il mio primissimo nickname utilizzato online. Mentre poi. Sono passato a Reicom. Molto velocemente. E ho ottenuto solo Ray. Citrio. Citrio è stato il mio primo nickname che ho adottato online. Certo. 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 Non abbiamo ancora finito. Il finale ci attende. Vi provo vedere cosa succede. Ora io non so. Cioè. Io da quello che so. E che bisogna arrivare fino a un certo punto. E poi succede una cosa. Non credo che saltando. Cambia qualcosa. Saltando. Vediamo questo filmato. Che sicurezza io lo guardo perché è il finale iniziale. Però quello che ho capito non corro pericoli saltando filmati. Ma perché se non salto filmati non ce la faccio molto stasera. O quello è un altro discorso. Che fosse bisogno non lo farei. Ma dovrei poter saltare fino a te senza rubare. Madonna come inizia il tutto qua. Se questo è giusto il tutorial. 2053. E' stati. No. C'è quanto. Foggio. Foggio. Sì c'è. Grazie a tutti. Alvinwar. Non sono more powered come all'inizio, quindi. Come all'inizio, come prima. Ha perso tutto, credo che non ce l'ho, sicuramente non ce l'ho perso tutto. Grazie a tutti. 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 Perfetto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Yeah. Grazie a tutti. Grazie a tutti. poveri tutti. Grazie a 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 tutti. ovviamente non mi sono potuto chiamare Raycom quindi mi sono chiamato col secondo nickname che utilizzavo barra utilizzo nei casi speciali online era anche il primo nickname che utilizzavo online cioè Xytrio che mi ho reinventato io no, il design di lui da piccolo non mi piace, mi piace un bordello da grande, da grande è bellissimo il piccolo non mi piace vabbè è un pischel cioè potevo chiamarmi anche Ray però sinceramente no se il gioco non mi ha voluto far utilizzare il nome originale non ha senso chiamarmi con un diminutivo del nome originale cerco semplicemente come ne ho messo un altro completamente diverso sarà praticamente solo una speedrun per ora da com'era il finale di sì, è bella perché ti sei eliminato completamente dall'esistenza quindi ha senso Raycom non esiste più andiamo poi stavo dicendo che lunedì continuiamo cioè continuiamo porto persona 5 royal la parte che sto per arrivare alla parte finale la parte finale la parte nuova ci vuole un pochettino ancora ma sto per arrivarci perché non ce la faccio se no a concludere mai quel gioco e poi io concludo almeno lo faccio con costanza in live così vedete pure la mia reaction alla parte nuova del royal che non ho idea di che cosa succede qui c'è una shade mi pare ancora? bene a deviare ah Perry però l'ho mai più fatto perché tanto non mi serviva più avere troppo P ok ma porti solo la parte finale senza tutto il contesto sì sì è solo una scusa perché finalmente riesco a giocarlo e con costanza e se no non ce la farò mai me lo porterò per sempre verso la cinque royale infatti non lo metterò neanche sul canale però a youtube non lo metto semplicemente a cazzo di cane a cazzo di cane facciamo il cazzo che vogliamo nel mio canale lo do ma ovviamente devo scrivere il titolo spoileroni perché se no magari vi rompono i coglioni ma a parte quello sì è una scusa è una scusa farlo e se no non ce la farò mai tanto a prescindere la sera faccio live e gioco quindi almeno sempre tre volte a settimana a posto di nier ci sarà persone e poi passiamo a Sekiro e poi passiamo a Sekiro che non vedo l'ora di passare a Sekiro sì però ci vorrà un bel popper ci vorrà un bel popper per fine royale credo non so quanto è lunga la parte nuova però diciamo che devo fare ancora l'ultimo dungeon della parte vecchia del gioco senza fare spoiler qui a caso nella live di nier e lo so che è bello Sekiro me lo dite tutti sono proprio curioso di giocarlo poi me l'ha regalato Ponzi che cazzo faccio no? gioco certo lo gioco ma ringrazio un bordello non è per lei chissà quanto cazzo non è per noi non è che non è che no non è che poi dopo Sekiro vediamo ma tanto fin quando ci fin quando ci arriva a Sekiro fin quando ci arriva a fine di Sekiro non sono ancora molto dura la Royale qui si incontra Vice sì siamo già arrivati sì vabbè tagliando tagliando tutti i diario che hai filmati ce la faccio troppi ricordi è la prima volta che si incontra Vice e dove valla con Popola partiamo filmato qui tra l'altro Ray sì dimmi Yona no semplicemente mi faceva saltare non so dobbiamo andare all'Eastern Gate aspetta un attimo che salvo qui penso che ce ne sia bisogno ma giusto per sicurezza dimmi dimmi Codò hype per sta roba è guarda che è il suo fiocco questo nastro è la mia reaction in live completamente blind della parte io una volta ho visto un film di origini francesi e tra i titoli di coda c'è scritto tra quelli che ci hanno lavorato François Weiss Weiss comunque è un nome è comunque un nome mi pare ho un cognome o francese o tedesco esiste quindi parte che mi pare che significa bianco però non voglio dire una stronzata ma mi pare che Weiss significa bianco eppure è una birra zago ma ci c'è pure che è una birra ma è una birra è una birra che alla fine è il gioco infatti bionda appunto viste pure bionda quindi bianca ma sai zago che io non bevo ma proprio non bevo un cazzo acqua al massimo cocavola non mi sono mai abituato a bere forse dovrei un pochino perché penso che non so se fa male ma per ogni tanto penso che vada bene però non ci ho mai avuto voglia non mi interessava neanche il sapore dice qualcosa ma sarà che non sono abituato vai salta te prego ho bisogno di guardare da giovane da giovane eh tu anzianotto ormai siamo a un passo dalla tomba ma facevo schifo cioè bevevi troppo ti ubriacavi vabbè ci sta da giovane dai ma perché ora non bevi più penso che sei come me che bevo solo acqua o al massimo tè freddo o ogni tanto ogni mortipapo la coca cola una volta bevo tanto la coca cola poi ho smesso una volta poi mi tanto dormendo e ho affogato il telefono nuovo rischiando per alto di eh beh minchia porca puttana vero 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 bevo qualcosa ok ma cazzo è ovvio cioè hai avuto un rigetto mentre dormivi potevi davvero affogarti porca troia che cazzo è fatta duvitario mentre dormivi madonna mio dio mi ricordo una scena orribile di breaking bad mamma mia porca puttana almeno non si non si apre come non si apre ah ho bisogno della chiave aspetta mi pare ma donna però che esperienza c'era Godot che si era bevuto il limoncello qualche settimana fa e in live scriva così tante cazzate perché Godot ha pure 14 anni quindi non può reggere bene l'alcol a prescindere porca puttana eri bellissimo Godot quella sera vada io al massimo bevo tipo un po' di di spumante nelle feste ma tipo un bicchiere al massimo già quello un po' mi sordice ma perché non so abituato a bere eh te lo sei perso c'è ancora il VOD più che altro che là è vera era sempre Nier era Nier dovrebbe esserci sul canale tra youtube si per favore si deve vedere lui che scriva le cazzate il il live salmela migliore di poco il bene è che poi se ne ha reso conto ha detto è meglio che me ne vada a letto sto schifando pure i nemici ragazzi che combatto fa non è necessario non è necessario non è necessario wow da quant'è che non facevo un parry 15-18 non facevo un parry ma se lo trovi il video se ti ricordi qual'era passa o è su youtube o se c'è ancora il VOD qui ma questi non attaccano dai non lo trovo allora può darsi che sia scomparso perché ma sai che ho scoperto sai che ho scoperto tipo oggi che non solo si possono salvare degli spezzoni di live ma si possono salvare anche la live intera lo devi fare però manualmente per forza se no non te lo salva Twitch pensavo di iniziare a farlo per tenere sia su YouTube che qui vabbè su YouTube comunque alla fine lo trovate sempre per esempio tutta la mia mega run di Darkest Dungeon è scomparsa nell'Ether 30 ore di live quanto cazzo è bello da quest'anno pensavo di riportarlo un pochettino facendo le mod però qui là al massimo come c'è voglia ah yeah eh lo so lo so lo sto già facendo è stronzo di poker non farti capire che comunque questa run andrà a fine diversamente ti fanno comunque rivedere i tutorial prima per dire no no tranquillo è come se stessi ricominciando il gioco da caso così ma l'hai cancellato il VOD i VOD si cancellano dopo 60 giorni automaticamente right io io chi è ma fate sia con cento questo è i b chi non che è v di non il gli vorrei per questo, ho bisogno di salvare Yonah! L'abbè, che l'hai vera! L'abbè, che l'hai vera! L'abbè, che l'hai vera! L'abbè, che sto mettendo tutto sul tubo, quindi in teoria sì. Ti ricordi che l'hai vera? E mi dispiace Weiss, non ti ascolto. Aspetta, ho l'abbiamo. Allora, come salviamo Yonah? Una volta che ho distrutto queste scuole, la barriera magica, evitando il tuo passaggio, dovrebbe semplicemente dissiperare. Potresti davvero fare questo? Sono Grimoire Weiss. Il mio nome che portano le regni ai loro piedi. Allora, faccio già, Weiss! Ti chiedi a me per il mio completo e proprio nome. Allora, continui arrivando! Mi pare di non avere un cazzo di magia, ma non posso non poter fare niente. Non ci sembra che il frattacale che mi ha dato prima, ha fatto il mio ricordato a me per evitare. È vero? È vero? È vero? Non è nemmeno così utile come ti credi di essere! Uhhh... Hai proprio il sangue da queste cose? Il sangue è un sangue, è un sangue, è un sangue. Oh, power. Ok. What is this? My memory? You alright, Vice? Hang in there. It would seem I can regain my powers by defeating these monsters. Is this magic? Magic, indeed. This is the true power of Grimoire Vice. Hold on, Yonah, I'm coming. This, is that all of them? It seems our task is going to be more difficult than I first envisioned. Stay calm. The man who keeps his head in a fight is the one who emerges victorious. It's a defensive barrier. That sounds bad. Enemies with such barriers are impervious to both weapons and magic. Like I said, bad. That said, the enemy cannot move so long as the barrier is in place. Focus your attacks on the other. Oh, this is madness. You fight like a one-legged chicken. Can you maybe be quiet for a second? I'll do this again. Not again. We will see how these foolish creatures fought helplessly into battle. Still, dealing with both of them at once may prove to be a daunting task. Ora, mettiamola fuori della miseria! Un libro di parlare e di movimenti statue? Sì? È tutto più vero, ragazzo. Stai... Buona lancia, finalmente. È questo più del tuo potere? Si sembra così. Sei sicuro che sai cosa stai facendo? Oh cazzo, non ho cure! Non ho cure! Ho fido le cure! Non ho fido le cure, ho paura ora! Ho paura! Cazzo se vuoi, ho cazzo! Oh mio Dio! Non ho fido le cure! Non ho cure, god... Non ho fido le cure! Ma deve riusciare, porca puttana! Focati sui piccoli prima! Le si no giù! Non ho fido le staccia! Non ho fido le cure! Non ho fido le cure! Non ho fido! Non si sembra felice. L'angere è solo una forma di energia negativa, non c'è nulla a farlo. Questo escello in combattimento vicino, mantenete la distanza. C'è l'ora di straccare da fuori. Mi compro un bel po' di pozione adesso, non so più overpowered. Non posso fare come facevo prima, smashare e basta. Smashare. Guardate quanto ci metto che dovevo arrivare alla parte nuova. Perché non ricordo precisamente quanto ci voleva arrivare fino a quel punto. Perché so fino a che punto dovevo arrivare, non ricordo, anche se non ho capito precisamente. Non ricordo però quanto ci voleva. Secondo me non ce la fai. Eh, posso andare a dormire tra due ore, magari. La faccia di forza può essere utile. Wow, me lo fa fare! Vedi come si fotte il gioco in questo momento. Sì, ma non volevo farlo. Dio santo. È un po' troppo forza, ora vediamo. Vedi che mo' fa fare, vedi che è tutto imbardata la situazione. E se si torna indietro. Perché stai all'interno come un slaccio di nini? Scusa. Mi sentivo come... ...dreamo o qualcosa. Ah, dormire sui piedi è davvero il talento. È bello che mi ha messo lo stesso doppiatore di Gestalt. No. No. No, no, let's go un cazzo. Grazie godò. Grazie godò. Quante cazzate, eh sì. Oh, sì. Oh, sì, è. È... Beh, ma c'è il cervello. Eh, quindi... È... ...è... Ma... ...è... ...a... ...è ... va a prendere la tua paola. Un libro bianco... ...marco... ...e una maluca... ...e una noticia. Sì, sì, eri super sortita, eri obbligato, eri obbligato, non so quanto ne avessi bevuto, però non lo reggevi sicuramente. Si, asce. I w-w-we you k-yeah? When the great black book grimo- S-s-any! Eg-z-guy-hey-and-do-s-ar-all-oh-oh-oh-then-we'll- No, quindi... Beh, io ho detto che io sono me. Una volta che ti sali... Gah! Mi prendo le medicine prima di andare al nido, non si sa mai. Vabbè, missioni che non faremo, già fatte tutte... Mi devo dire, quella ponte degli antici è un numero abbastanza pesante. Posso vedere perché i bardi hanno mantenuto la vita durante gli eoni. Sì, è un vero toetapero. Poi, hai anche le toetapero? No, bello, devi solo vendere... Non la voglio fare la tua missione. Sì, accetto, ma solo perché devo comprare la roba. Cazzo. A me qua. Pure l'unguento ti compro. Due di unguento. Da, ci vediamo. Non crei, il finale dura tipo un'ora, ti avviso. Ok. No problem. Vorrei concludere stasera, sinceramente. Vediamo. Sta comunque. Anzi, almeno è più di quanto mi aspettassi. Vediamo se lasciandoci riesco stasera, dai. L'unico motivo per il quale io potrei fermarmi è la stanchezza. Che ero già un po' stanco perché sto ancora esportando un bordello di roba e caricando un bordello di roba. Posso, però? Mi chiedo. Credo che non ti uscirò per il kindling, dopo tutto. Scusate se sbati io. Ero già un po' stanco. Perché sono uscito oggi pomeriggio e ho fatto delle cose. Andiamo a parare col capo. Ah. Zago. Una cosa che forse non sai, non mi ricordo se l'ho detta quando tu c'eri. Goddall già la sa. Io prima di fare video, cioè, circa nel 2011, facevo... Facevo Envy. Madonna. Dieci anni fa. Dopo una roba. Mi passavo un sacco il tempo e mi piaceva. Ho smesso dopo un po' di mesi. Però. Forse dopo un anno, no. Dopo un po' di mesi. Però. Lo trovo divertente. Era molto, era molto difficile. Certo, non è che fosse il top dell'AMBR, però. Ma cavavo, eh. Soprattutto, soprattutto alcuni me la sono cavata abbastanza recentemente. Altri invece sono porcate, però l'ho lasciata sul canale. Avevo un canale secondario. Era il mio canale principale. Utilizzato. Citrio 1, si parla. C'è ancora. Per l'altro. Uno dei miei MV. Ha fatto così tante views. Quasi 4 milioni. Adesso. Che... Parca troia. Salvi. Che avessero arrivato nel tempo, anche dopo aver smesso di fare invia, a 4 mila iscritti. Così, li ho fatti passivamente senza fancazzi. Nooo. Si sembrava che non ci sono fatti potenti, qui. Non c'erano i versi salati in un momento in questo. Sì. Egli e parlare con Popola e scoprire un nuovo plan. No, sono caduto! È andato l'urno mascolino. Però certo che si trova. Certo che si trova. Basta cercare Citrio 1. Oppure dovrebbe capitare come primo e unico forse le Envy di Devil May Cry. Che è l'anvy di Devil May Cry. Che è quello per l'appunto più visto. Che ha circa 4.000 risultazioni. Si chiama Devil May Cry Envy di Time Is Running Out. Non sono andato a quella. Ma come inizia quella? È la ghirlanda della nonna. È il... È il diritto. Mert. Hande off the flowers. Vice... Oddio, cane, ti aprego. Collaboro. È brutto non avere magia, non avere... Oddio santo, cane! Collaboro un po', cane. Devo fare i perry? Dei mio sminchià. Non li sentirei niente da 2011. Da quando ho fatto l'Envy. Da quando ho fatto... Da quando ho fatto l'Envy. Poi te lo passo io su... su Discord. Te lo faccio vedere in live solo perché sennò mi stricano il mondo. Considerando che ho una canzone sotto copyright. Oh, come on! Sei serioso? Che cosa sta succedendo qui? Guarda la caccia, Wayne. Guarda il fondo fino a che abbiamo una chance di approcci. Guarda il fondo. è il fondo. te idioti! Ma sembra che noi non siamo il focus del nostro angolo. Sì, non. È proprio che si spaventava qualcosa fuori. Quali sono? Da notare come lui i bobiti piccoli... Questi ragazzi anche? Non c'era che le scuole potrebbero essere così grande! La scala di questo è come nulla che hai incontrato prima! Radeo guarda! Oddio santo, quante volte lo fa! Mori! 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 Non me l'ha fatto fare perchè mi ha fatto vedere tempo cadendo! Che palle! Allora, facciamocicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicici! Non ho ricordi con i Vius però! E cosa sarebbe interessante da vedere cosa dice quest'ombra di Tiffel? Eh, effettivamente non lo sappiamo! Non lo possiamo sapere! Cosa dicono questi piccoletti in questo momento? L'argo Алcana! Non muissi. Anche non mi fai ultimo... Questa taglio, eh? Chuka!!! Grazie a tutti. Oh, in che posizione è provocante, Cagno? No, i Muse sono un gruppo, un gruppo musicale. Non so se sono ancora... se fanno ancora musica, però è un gruppo musicale. Una band. E Time Is Running Out era... era una delle loro canzoni più famose. Un po' con la pavola, un po' con la pavola, un po' con la pavola. Allora... Però non ricordo dove ci mandava lei. Forse era la Junk It. A combattere il boss della Junk It. Erano molto di moda, sì, sì. Ora non ho idea se siano ancora a fare, però... E... 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 Voi stati al mare sentivi l'oro E i Coldplay Vero, vero, vero Minchia i Coldplay Vero, vero, vero Vediamo cosa dice Vice dove andare E che non lo sentire La taverna Vero, vero Vero, vero Vero, vero Vero, vero Vero, vero Non è colpa degli umani Se siamo piedi in questo modo Non potono farci niente Sono provata e andata come andata Sono arrivato a finito stasera Vero, vero, vero Vero, 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 vero Vero, 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 vero Vero, 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 vero Vero, 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 vero vado sabato della scuola ultima informazione durante il final ever e proprio non puoi salvare vabbè lo immaginavo nope ah quindi tu proprio mai sabato ok sai che tanto è quasi finito no? la scuola normale quando finisce con te intendo poi si passa agli esami però prima la scuola normale perché che data finisce ah è brillo in here sembra che la macchiniera è ancora lavorata non che abbiamo idea di come funziona ruine di tempi antichi patrulli per eoni da macchinari sì e credo sono fatti di materiali rari ah non so che devo fare perfetto non mi ricordo il ghiaccio ok abbiamo già detto gli esami quando inizieranno non mi ricordo non mi ricordo non mi ricordo Ti senti pronto? Ti senti carico? Mi ricordo dove devo andare, andiamo in un po'. Ti senti potente? Vedo strada? Madonna quanti sono! Ah la tesina? Dio tu cosa è fatta la tesina. Si sembra... Oh my god, come un po'. Un po' fai qui. Un po' fai qui. Un po' fai qui un po' fai. Poi che fai qui. Anche alle altre cose... non so che i mei mi consigliano una macchina che non ha detto di posarsi senza il loro permesso lontari caribaldi maturità la morte delle diverse culture della grecia antica e per gli argomenti caribaldi vabbè è un classico non so che non ce l'ho da ridere però palle pensa a me che ho tutti quei robot che mi vogliono morto dall'altra parte della barricata madonna santa che rottura di palle muori un po' posto mi cavo dalle palle ciao ciao questo dovrebbe farlo hai capito perchè non volevo parlare di un'andata oggi non ti preoccupare mi dispiace sì, è apparentemente una sorta di magica che può uscire in un instante purtroppo immagino so bene come può essere perchè tutti i sages che hanno provato questo spazio erano riduzionati alla mince quando hanno avvicinato gli obiettivi wow allora la tesina mi pare che l'è già finita quindi l'è già finita la tesina non so se hanno cambiato le cose non so se hanno cambiato le cose lo so definire alcune cose ok non so se non non so se non come vi non so se non non so se non non so se non No, ce l'aveva pure lo scritto Ok, ok, ok Quindi il 6 ci fa gli orali e è concluso Ok, ha detto che la mamma loro sarebbe in un'altra parte dentro le montagne, certo? Se mi chiede, cosa è che ti ha dato a meddare con le affaire di questi bambini? Yonah e io sappiamo come si sente per perdere la mia mamma Ok, vai, te ne levi subito allora e poi tutta l'estate va a fancuro Hai già scelto pure dove vuoi andare alle superiori, al linguistico Che bella lì So che c'hai l'ansia ovviamente, è normale Ti posso dire che non preoccuparti Conta quel che conta, ognuno se la sente sempre in quel modo della pressione Chiunque ci ha più c'è passato Quanti benemici da evitare Ah, giusto Ehm, non ce l'ho potuto finire a tutto Ma i tuoi lo sanno che hai bevuto il limoncello Per festeggiare ci sta, dai sti cazzi Oh, poi non esagerare però E c'è un'arma mi pare No, non ricordo No, naturalmente Almeno non ti hanno visto brillo Spero Il nostro paciente C'è un'arma mi pare E tempi Jana In Direi agriculture In Il nostro H我是 D Ilos oh è una roba delle palle non vi voglio combattere, fatemi lasciare ma che scherzi, mi scopo di mettere il proprio nel centro e la fine della persona lo immagino scopo i occhi, la moglie è chiaramente... è vero miracoli non succede se non credi in loro, ok? miracoli? grande giove vabbè sono un deficiente ero troppo lontano ma non l'ha lanciata dai, cazzo per me bisognava correre mentre si lanciava, sennò quando... ma si è fatto un boss che è davvero bello mi piace molto qua c'era un'arma no senti, io mi ricordo che c'era un'arma ah no, forse erano alcune nella parte B ok, andiamo ok, andiamo è funzionante sì, questo potrebbe essere un problema e senza aver combattuto e senza livellare sarà un po' longeva la cosa da fare no 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 oh no no Grazie a tutti. 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 Non so che cavolo bisogna fare a Sifron, non so che mi ricordi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non mi ricordo precisamente quando succede. Buongiorno. Ti va. Sì, vediamo, vediamo. Buonanotte, buonanotte. mi pare che la parte del re. che sia dopo. che è un po'... si, è un po' di... pensavo di farcela. va, vediamo, vediamo. va, vediamo. un po' di... 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 è bello darmi l'arma va più forte no è meno forte perché questa qua l'avevo potenziata front c'è il segnalino o devo parlare direttamente col pescatore io devo parlare direttamente col pescatore il segnalino il segnalino eeeh shhh bravo eeeh fish ah No, 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 no. Oh mio Dio, seriamente? Mammi sto pesce sciamano, madò Sbagliato Oh mio Dio, insomma è il secondo talk Ma ragazza è più facile di cattuare un pesce che un secchio We're all set I'll just have a kit Hold it, I How the, uh, are people Oh, what's my fruit You, what, why, you, are you No Eh, dai, sei, dai Non penso che io possa rifiutarmi, a dire la verità Ok Mi dispiace Non penso che tu possa rifiutare comunque Ti romperebbe solo le palle ancora di più F Oh, v- So Hey Oh, good Oh, you know You're from Popola Yeah Oh, well, anyway Would you mind taking Sure Beh Oh What? Non c'è Dobbiamo andare al coso Al faro Non penso che Mentre lei l'abbiamo mentito alla fine Questo ha avuto un po' più l'idea di la verità Non aveva senso C'è passato a bene a questa parte Oh What the We The That The S We Oh Oh We Need to get the shot Ok Pronto che facesse a mano E poi Chissà cosa tocca Vediamo Lo scopriremo Allora, se tocca al nido Lo facciamo Se no mi sa che ci fermiamo Pensavo ci mettessi di meno Come ho detto Non ricordo E' stato passato troppe ore Non ricordo adesso L'ordine degli eventi Della prima parte Anche nell'originale Non rigiocavi la prima parte Una volta che finito il D Avevi finito tutto Allora, se tocca al nido Grazie a tutti. 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 Dovrebbe essere il momento fatidico, forse. Anche se vado a letto molto tardi. In realtà non dovrei però... E' troppo curioso. Sempre che ci cascano con questa cosa... Ma quanto è bella la mano... Hey Tower, grazie a tutti. Hey Tower, grazie a tutti. E' un'altra... Quanto è un'altra... Quanto è un'altra... Quanto è un'altra... Quanto è un'altra... Anche io dovrei farla... Quanto è un'altra... Quanto è un'altra... Quanto è un'altra... tre ore... Quanto è un'altra... 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 Non faccio mai... Non parto la sera tardi... Quanto è un'altra... Io sono eroso... E non mi hanno acceso niente... Sì sì... Ma anche io di solito... Ma volevo provare la sera... Ci sta... Ma io non ho mai... Cioè... In realtà non ho fatto una di sei ore... Ho iniziato tipo... Alle sette di come... No... Alle sei... Alle sei o alle sette... Era giusto un test... Non era né estendibile né altro... Semplicemente... Volevo provare... L'assurazione dei gentle steam... E quindi non dare la pena... Ci sta... Lo capisco... Guarda... Guarda... È tosta... Per noi che siamo molto piccoli... Poi farci notare... È tostissimo... Ci si prova... Dai... Io... Ad esempio... Faccio live ogni sera... A prescindere... Giocherei... Quindi... Perché no... Comunque... Provo a farmi notare... In altri modi... Comunque... Comunque... Grazie per le idee... Mi fa piacere... È sempre provare... Certo... Non bisogna mai demoralizzarsi... Anche se è dura... È stata sempre dura... Anche per me... Ci sta... Nel corso di... Di più un anno... Che faccio live... Ma ci sta... Bisogna comunque... Cercare di farsi notare... In altri metodi... Perché se vai semplicemente... Basandoti su... Su Twitch... È difficile che... Che la gente ti noti... Perché è troppo difficile... Trovarsi... Molto semplicemente... A parte tutto il resto... Ma... C'è bisogno di farsi notare... Altrove... Quando posso... Grazie... Grazie... Mi fa sempre piacere... Non ho mai idea... Salto... 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 Mi prendo un po' di erbe... Perché... Non so se conosci Nier... Però... Io l'adoro... E qui... Lo... Lo sto portando tutto... E sono praticamente... Alla fine... Alla fine... Tutta la fine... Ah... Credo di dover ammazzare... Per forza tutti... Credo di dover raccoltare... Infatti... Va prima a seccare tutti... Se non secco tutti... Non va bene... Ma... Io l'adoro Nier... Quindi... Assolutamente... Ho già giocato originale... Per PS3... Però arrivo subito a questo... Dovevo andare di qua... Dovevo andare di qua... E sono praticamente... Alla parte in cui devo fare il finale E... Non voglio spoilerartelo... In caso se non l'hai giocato... Però... Roba tosta... Non c'è da peperone... Non c'è da peperone... Io ti dico... Dovrei andare bene... Con un corso a me... Non c'è più! Ok... Oddio santo... Bastiosissima... è estremamente passivo anche perchè il danno gliene faccio pure poi in questo momento non lascio poi in pace e si recupera la vita e devi rifare la parte che paura purtroppo non sono formato perchè sto rushando quindi scusa se mi concentro qui che inizia a succedere qualcosa di nuovo perchè non lo so io ho paura che inizia a succedere qualcosa di nuovo qua Kaine, è me grandnome oh, come hai cresciuto Kaine, cosa è vero? oh, it gladdens my heart to finally see you again grandma? come Kaine come to your grandma's side you've been lonely for so, so long so much pain so much despair why go on living anymore? Kaine is that it are you finished yet? don't speak to your grandma like you're going to stop talking now and then I'm going to slowly walk over to you cram my hand inside your goddamn bitch-ass chest and pull out your fucking heart and pull out your fucking heart my grandmother would never say that she'd never tell me to give up on life never I've spent my entire life searching for a way to avenge her death she gave me the strength to deal with this goddamn mutant body do you know how long I've been like this? how much I'm going to love myself I'm going to love myself mounting a last desperate offensive I see bad attacks, bad news and then I'm going to love to go e ora vediamo cosa succede e ora vediamo Kainé! Credo che lei intende percibere dove sta. E in realtà, magari la morte è la più grande comfort che possiamo offrire. Non è la tua decisione. Non riesco a decidere chi vive e chi muore. Non riesco a decidere. È una vita. Ha un significato e valore. E noi stiamo a salvare. Tutti ha qualcosa per vivere. Anche Kainé. Anche Yonah. Potremmo dovresti salvare le parole delle belle belle per lui, invece di perderele sulle per me. Tantemente. Non schifo più niente. Perché io potrei che adesso ci succedino qualcosa. Potrei restare ora? E' così fatta. E' così fatta. E' così fatta. Come andiamo! Come andiamo! Oh! Oh! Gli occhi dovevi aver sognato qualcosa di molto triste. Possiamo però con Kainé possiamo. Ok. Oh! 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 Capito. When I look at my broken sword, it reminds me of my battle with the Shadow Lord. Somehow it's been three whole years since I saved Yonah. That was supposed to be it. Goal achieved. Game over. So then, why was I crying? Three years have passed, and I still haven't found the answer to that question. Not exactly the restful sleep I was hoping for. Dammit. No, 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 no. No, 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 no. Who knows, we need it. Proprio seguendo dopo il finale D. ...残si on the carcin dato. ... Ehi, bella visualizzata di lei. Precisamente, Tower. Ha pure un moveset proprio... Wow! Ma che bellezza! Un moveset, proprio delle mosse sue! Pensavo che se hanno fatto le cose col minimo sforzo avrebbero preso giusto il moveset del personaggio originale. Ehi, bella visualizzata di tutti! Mi sembra che c'è molti scambi in attenzione. Sì, guarda come si muove lei. Ha fatto con le braccia in quella posizione, quel tipo Naruto. Ma qualcuno è attenzione se l'ha andato a casa. Ehi, arrivi! È pericoloso qui! Credo che sia la linea mia, amore. Oh ma... ... ... ... ... dance thanks for the safe shades have been on the rise around here lately now go home oh believe me i want to thing is i've got a job to take care of see we haven't been able to get in touch with anyone in the forest of myth somebody's got to go over there and make sure they're all right and that someone is you you will make it 10 feet before some shade mauls your ass i'll go what really oh man thanks a million oh wait you should take these i'll wait for you around here and thanks again ok ci sono sempre più ombre è sempre più un bordello ok bisogna che combattiamo quanto siamo potentissimi non penso ci sia altro da fare a livellare o altro ci sia giusto storia lineare questo e basta ogni giorno ma kaini si preoccuperà perché mi invio troppe le scriverò una lettera per dirle che sto benone è stato bloccato un nuovo salvataggio è stato sbloccato un nuovo salvataggio i dati salvati fino a questo punto saranno temporaneamente inutilizzabili ma oh mio dio shit morti morti what are those things doing here wait did they kill the villagers Ah, sono macchine. Non troppo neanche niente, non che ce ne sia bisogno, penso. Entriamo nell'albero. Un'area completamente nuova. Un'area completamente nuova. Un'area completamente nuova. Un'area completamente nuova. Creepy little freaks. Un'area completamente nuova. 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 Un'area però effettiamo bene. Un'area totalmente nuova. Un'area completamente nuova. Scusate La voce del mondo riciclato Evoluzione Evoluzione Iscrivetevi la potenza Usare 44, il level di nato A bestia Altro Sì, sì, sì. Ok. We have reproduced you at the point in your journey in which you are strongest. Oddio. Son of a... Are those things me? Oh, Madonna. There are copies of them shipped by machine. A collection of microscopic plant-based proportion units bound together with muscle particles. The same as this very forest. A massive forest of memories coalesced by the tribes, quantum mechanics, and massive research. A forest that records anything and everything about the world. If you wanted me to follow any of this, you're gonna be real fucking disappointed. Your comprehension is unnecessary. After all, all you care for is killing me. Is this not so? These other me's are brittle as hell. I oughta be insulted. Non importa il quattro coppia che stai distruttando. Ci saranno semplicemente disperse, e immediatamente reconstruirà loro. Ci sono ancora molto divertente. Abbiamo finito alla fine. Siamo arrivati a l'inizio. Sì, tu sei assicurato! Voglio ridurre questi freddi, mangiare i pezzi, e farlo in una canzone! Che era noi? Ma penso così, che cazzo. Che un po' finirà. Oh, fammi dare visualmente. Dammit! Tu piccoli freddi! Molto raffinata, Kainé. Sempre stata molto raffinata. What the fuck? Kainé! Sei ok? Meal? Sì! In ogni caso... Il signore ha recuperato partire dal suo corpo. È buono che senti seguito! Sì, sei rifatto, tipo. Che bello! Sì... Mi sento un enorme potere in questo circolo magico. Credo che sta aggirando come un'energia. Se possiamo distruggere, tutti gli altri Kainé devono anche disappear. Ho capito! 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 sembrava che è stato per sempre, da che abbiamo lavorato insieme. Questo sembra familiar. Credo che c'era qualcuno che aveva lavorato con noi. In miei ricordi sono... Un'unica fenomeno fluctuazione è presentata. Signore di signore dettagli in Ragnolkin country. Fascinante. Terribli fascinante. Un po' più e luo Ehmille. Buongiorno. Ehmille, bello. Ehmille, ci sono i camionati. Oddio, non ci posso credere. E' quello che c'è lei nel caricamento. Non posso credere, bocca tuttana, Taro. E' difficile comandarlo con le parole. C'è quello che c'è. Buon appetito! veramente le persone che incontri è la campagna con la testa si infatti io sto contando Kaine che era un membro del gruppo ma non era il proprio protagonista ma diciamo che senza dirti niente di specifico succede una cosa al protagonista e adesso si guida Kaine e lui è Emil che c'è sempre stato ma non l'ho mai fatto non so cosa sta succedendo Kaine sento qualche magica potente in fronte questo è un paio molto special a te e al mondo questo è il corso di questa forest dentro di cui una grande varieta di informazioni è spostata in fronte in fronte esiste tutto che questo mondo è anche le ricordi che hai perdite non riesco a concettarmi sui dialoghi concettano sull'inglese che lo so almeno non voglio perdermi i dialoghi e non sono perseguiti non è così noi abbiamo fatto questo perché sei con noi dammit, cosa è questo? ti senti? mi ha scattato non c'è chiudere 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 il caricamento è cambiato oh mio dio dove sono io, Emil? queste sono le vostre ricordi queste sono le vostre ricordi questo è il tuo mondo che è questo? sweet memories from deep within pure memories that were sealed away shades? shades human souls that have gone gestalt these shades are the data reproduced in your records they are true humans to the slaughter you are a foreign entity in this world an account created by a discrepancy between one and the other i have not understood a single fucking thing you shitty little ass grabbers have said since we started this goddamn adventure musica 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 Grazie a tutti. Enough with this bullshit, R.A. You have heard many forces. Fear, hate, rage, suffering. Each of them has me. Fear, hate, rage, suffering. Stop it! I kill shades. That's all there is to it. Cazzarola. I'll kill you as many times as it takes. You goddamn shit-fucking despicable piece of garbage! Shut your goddamn traps for one goddamn second and let me kill it already! Your efforts in the future, they cannot be stopped. Someone else was there when I first fought this bastard! Fuck! Why can't I remember? I was surprised, I think they were standing up. That means that they didn't make me crawl anywhere. It's a bad thing. Questa è una piazzata qui, e tu sarai pagare! Ho fatto diventato tutto più distorto. Non lo perderei a te! No, non lo perdere, non lo perdere. Non so se non... ... maggiore! ... maggiore... ... e non lo perdere! Allora, ragazzi! Non so se non si può! get out halfbreed you disgust me you disgust us all we don't want you just leave us in peace enough already please just shut up fuck this is bad I don't know I don't know I don't know I don't know in quel momento Kaine si riuscò a fatica ad andare su intorno ma che è successo? non stavo come ha tenuto le ombre probabilmente ancora in subbuio Kaine cercò il tentone di la spada su cui non si erano mai che non si erano mai ma sono stanco scusate non leggerò sono davvero stanco non leggo a voce alta 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 Grazie a tutti. Mettiamo in queste parti, madonna. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sto tutto cadendo a pezzo boom quasi. Grazie a tutti. 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 c'è solo un file in cui ripristinare degli salvati qui c'è Exitrio veniamolo fuori I leave the rest to you, Hasi Our journey may have been meaningless Our past may have been a mistake But we're not going back Even if this world comes to an end Because this This is the world with the people we cherish Our past may be a place And this is the world with the people we cherish But we're not going to die True It's that I'm not going to die I am going to die Ora poi ovviamente Il solito simbolo di corrente Dovrei processare tutto questo So cosa è successo L'ho appena vista Ma la stanchezza mi uccide Ci devo pensare bene però Perché è qualcosa di totalmente nuovo Per me Perché non ho visto Non mi sono sbagliato niente Giapponese? Ci devo pensare però Qualcosa di molto particolare Devo anche capire delle cose Però la stanchezza anche che non mi ha aiutato molto Capire Ho capito ovviamente cosa è successo Tutto cosa è successo Però E' letteralmente particolare Questa cosa Allora io ricordo Che inizialmente Dove esserci un finale Ma non venne inserito Non so se era cut content Non so se era cut content E' una cosa che aveva in mente D'ora una mamma E' una cosa che aveva in mente E' una cosa che aveva in mente E' una cosa che aveva in mente Quello che succede qui, mentre qua è molto più spiegato, molto più diretto, molto più narrato, e fin mai di tutto il resto, quella era giusto una forza, non l'avevo letto, mi pare era vero, la roba fin fine aveva sempre intenzione di mettere questo, finalmente originale, magari per un altro non era stato messo. E' giusto questo finale, è un finale, è sicuramente, cioè, alla fine come abbiamo visto, A, B, C, D, E adesso, sono uno la conseguenza dell'altro, prende C e D che poi devono essere staccati però, da dopo D venire bene l'è, e quindi questo è il finale proprio, di Adelaide Cazzo. Io non c'è neanche un discorso se è giusto o sbagliato, semplicemente quello che è, è un corrento, finale finale, è talmente particolare che devo facci spagna, devo pensarci. Emilia era salvo la sovrappeggia, e torna a ricoprare un po' il suo corpo è un po' a cazzo di cane qua, dove c'era quattro braccia, però tornato al laboratorio, a scovare qualcosa, qualche resto dello suo albero. Questa cosa dell'albero si sapeva pura, che l'albero era una macchina gigante, che ricordava, mantenere i ricordi. Il paese che spunta così non lo so, quello che effettivamente un po' più mi lascia... Guarda com'è scritto. Opzione un saluto di commiato aggiunta al menu impostazioni. Si sia la casa di quella donna, per ottenere una nuova arma. e armi di loro. Saluto di commiato. All right, is everybody here? Present and accounted for. You betcha! Sure. All right then. Ahem. Dear players, the game is over, and we have a special message for you. Thank you for playing! Oh, for fuck's sake. Yona, why aren't you in bed? Oh, hey! It's my big, big brother. I'm so sorry. I just didn't want to miss this. Try and take it easy on her, okay? Yeah. You wouldn't turn down a request from your adorable little sister, would ya? Popola! Devola! You're here too? Looks like you're having yourself a grand old time, sunshine! Okay, who was that? Shut up, Tyrann. You'll just make things complicated. Tyrann? We haven't all the time in the world, hmm? Let us finish what we came here to do. So, it's really gonna be over, huh? Does that make anyone else feel sad? We have to say goodbye eventually. But hey, I'm sure we'll meet again. You really think so? I'm getting hungry over here. Wanna hurry this up? All right. Once again, from the top. Dear players, the game is over, and we have a special message for you. Ready? One, two, thank you for playing! también. Okay. Okay. Bye. MARCUS Grazie.